Un collegamento tra Mantova e Viterbo si trova nel cuore della tuscia viterbese. Formaggi chiodetti, caseificio con oltre 50 anni di storia, si avvale infatti delle griglie dell'azienda mantovana IFT. 50 anni di tradizione caseania, una storia che ricordo da bambino, una storia che affonda le sue origini nella tradizione della pastorizia, fatta di dedizione, tempo, passione, innovazione, filiera, attenzione con il territorio. Prodotti tipici della tradizione, nati dalla pluriennale esperienza, ma cresciuti con attenzione alle opportunità delle nuove tecnologie. Noi facciamo circa 40 prodotti, diversifichiamo molto, siamo per certi aspetti un'azienda molto dinamica alla ricerca della novità, del nuovo prodotto, nel rispetto della filiera, della tradizione, del territorio e della qualità. IFT soddisfa da oltre 10 anni le esigenze di immagazzinaggio e stagionatura dell'azienda, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, migliorando la produzione. Circa 15 anni fa abbiamo sostituito le tavole di stagionatura con le griglie della IFT. Sicuramente è stata una scelta che ha migliorato le condizioni di lavoro e gestione del formaggio nelle celle di stagionatura. Il formaggio ha bisogno di meno rivoltamenti, è areggiato in maniera eccellente, va anche non solo della qualità del formaggio, ma anche a tutela e rispetto del lavoratore. Perché se c'è una cosa che mi piace è sicuramente la capacità di rivoltamento delle forme in maniera veramente eccellente. Nella mia esperienza consiglierei le griglie IFT, perché comunque nella loro capacità di igiene uniscono leggerezza e robustezza. Le griglie IFT sono un vero e proprio palcoscenico per questo prodotto, che nella rosa dei formaggi è sicuramente un gran protagonista. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la tradizione, ma con uno sguardo attento al futuro. Grazie 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 Gabrie